Pagina sportiva che apriamo con il calcio, continua il conto alla rovescia per lunedì prossimo 24 giugno, data il giorno in cui sapremo se la lucchese riuscirà ad iscriversi al prossimo campionato di Serie C. Purtroppo i segnali che giungono non inducono all'ottimismo, anche se la speranza, come suol dirsi, è l'ultima a morire. A Gazzetta Lucchese l'avvocato Massone si è detto preoccupato, noi potremmo aggiungere, lo siamo già da parecchio tempo, tre i nodi che rischiano di vanificare ogni sforzo per salvare la categoria, il rapporto e il debito, soprattutto con l'Agenzia delle Entrate, la vicenda Stadio e le modalità di pagamento, come ha confermato lo stesso Angelo Massone, che a suo tempo, circa un mese fa, ha presentato domanda di concordato per la lucchese. Sul fronte mercato, intanto, si vocifera dell'interesse del Messina nei confronti del direttore sportivo Antonio Obedio. Calcio giovanile perentorio successo degli allievi elite del Tau Alto Pascio che hanno battuto la Sestese con un tennistico 6-3 nella finale di Coppa Toscana giocata al Bozzi di Firenze. La squadra di mister Simone Giulia ha dominato la partita, chiudendo il primo tempo in vantaggio per 1-0. Nella ripresa, poi, i giovani a Maranto si sono letteralmente scatenati e si sono portati sul 4-1, rintuzzando nel finale il tentativo di rimonta dei Fiorentini. Due reti di Gaddini, due di Menconi, Amato e Sauro, gli autori delle reti altopascesi, tripletta di Fioravanti per la Sestese, mentre qui vediamo questa foto, il momento in cui il Tau alza la Coppa Toscana. Ancora calcio, nuovo allenatore per gli juniors regionali del Castelnuovo, sarà Alessio Beccelli a sedersi in panchina in un campionato difficile che però conosce molto bene. Si tratta di un ritorno, dato che Beccelli aveva guidato la stessa squadra pochi anni fa, la proposta del Castelnuovo, le sue prime parole, mi ha fatto molto piacere, sono onorato perché è una piazza importante e qua sono già stato. Passiamo al tennis, prosegue il cammino di Tatiana Pieri del Tennis Club Lucca Vicopelago nel torneo ITF di Padova. La ventenne tennista lucchese ha superato di slancio i sedicesimi di finale battendo in due set, 6-2-6-2 la francese Manon Arcangioli. Negli ottavi di finale la più piccola delle sorelle Pieri se la vedrà con un'altra italiana, Nastassia Burnett. Ed ora una notizia che riguarda il ciclismo, buon sesto posto di Pierpaolo Ficara di Amore e Vita a Prodirne, la prima tappa del Tour de Savoie Mont Blanc, da segnalare anche per gli uomini di Ivano e Cristian Fanini, la lunga fuga di giornata di Luksevic o adesso ci sarà la prossima tappa con il Col della Maddalene, dove Ficara e Celano contano di essere grandi protagonisti. Passiamo al basket, sono giornate frenetiche in casa del centro minibasket Genova-Lucca. Il D-Day è fissato al 1 luglio, è quella la data limite per acquisire o meno il titolo sportivo da un club di serie B. In ballo, con pagine campane e un paio di laziali che parrebbero decisi a mollare. È il passo fondamentale per stabilire il futuro prossimo venturo del centro minibasket Genova-Lucca. Chiaro che un'eventuale disputa del campionato cadetto comporterebbe la scelta di un profilo che i dirigenti lucchesi stanno valutando con particolare attenzione. E parliamo di allenatore. Il dopo piazza, passato a dirigere il settore giovanile, è ancora tutto da scrivere e sarebbero addirittura quattro i tecnici in lizza per la panchina bianco-rossa. Una volta ingaggiato il nuovo allenatore, ci saranno da analizzare anche i contratti dei giocatori che fanno parte del roster per la prossima stagione. C'è chi è legato da un contratto biennale e chi va in scadenza. Ad esempio, Capitano Romano potrebbe essere uno dei seniores da cui ripartire, anche per quello che è evidenziato e tanto di buono sul parquet, senza dimenticare il talento purissimo e cristallino di Del Debbio. Le altre vicende, pure rilevanti, sono al momento di contorno, la preparazione che inizierà dopo Ferragosto e la composizione dei gironi, fermo restando la linea sottile tra B e C Gold. Insomma, tanta carne al fuoco per un basket maschile a Lucca che ha tanta voglia di rilanciarsi ai livelli che competono alla grande storia e alla tradizione della pallacanestro nostrana. La pagina dei motori, l'appuntamento con l'eccellenza italiana del cross country per questo fine settimana in provincia di Pordenone con la ventisesima edizione dell'Italian Bahia, valido per il campionato italiano ma anche prova del mondiale. Tra i piloti al via il fornacino Andrea Lucchini, chiamato a difendere il primo posto nella classifica della T2 Tricolore. Andrea Lucchini, ricordiamo, è il secondo assoluto nella serie Tricolore 10 Sport. Il pilota lucchese del team Pollucci avrà alle note il torinese Piero Bosco e qui vediamo Lucchini in una delle sue partecipazioni alla nostra trasmissione Rombo di Motori. Sempre per quanto riguarda i motori, cambiamo argomento e parliamo di alcune ghiotte novità che riguardano la 54esima edizione del rally Coppa Città di Lucca. La grande novità del 54esimo rally Coppa Città di Lucca in programma il 26-27 luglio, rally tra i più carichi di tradizione in Italia, sarà il cambio radicale della logistica che si sposta a Porcari. Al Palazzo Comunale, sede della direzione gara, segreteria e sala stampa e nell'area intorno ad esso, quindi in centro, vi saranno organizzate le verifiche sportive tecniche e non lontano da lì vi sarà ubicato anche il parco assistenza. L'evento sarà comunque presentato nel dettaglio in una conferenza stampa organizzata per giovedì 27 giugno. Anche quest'anno valido per la Coppa Rally di Sesta Zona, oltre che per il trofeo rally toscano, per il premio rally a Cilucca e per il trofeo Renault, il rally, che dallo scorso anno è stato preso in mano da Maremma Corse 2.0, si presenta con nuovi stimoli e con una importante opportunità per il territorio porcarese. Nuovo anche il luogo dello shakedown, ovvero il test con le vetture da gara, che è stato spostato a Monte Carlo venerdì 26 luglio dalle 19 alle 23. Per quanto riguarda il percorso, secondo le regole federali, non è possibile rivelarlo prima dell'avvio dell'iscrizione il 27 giugno, si assicura tuttavia che sarà improntato sulla tradizione dei rally lucchesi e non mancherà certo di soddisfare i palati più fini. Una prova speciale sarà da ripetere tre volte ed altre due per due occasioni per un totale di 8 ed oltre 82 km di tratti cronometrati. La scorsa edizione della gara conobbe l'ottava vittoria del pilota locale Rudy Michelini in coppia con Michele Perna su Scoda Fabia e Re 5. Chissà che i due non vogliono calare la nona. Si svolta al Moreno Martini la festa di fine corso del Corpo e il Movimento, l'attività ludico-motore ideata e curata già da sei anni in diverse scuole del territorio comunale di Lucca dall'Associazione Slurp. I piccoli, li vediamo, divisi in fasce d'età dai 3-5 anni, frequentano vari istituti comprensivi, accompagnati dalle loro maestre, guidati dai loro abituali istruttori, si sono esibiti in apprezzati saggi, hanno ricevuto una pergamena a ricordo della manifestazione. È tutto anche per quanto riguarda la pagina sportiva, ci fermiamo per una breve pausa e poi torniamo con la terza ed ultima parte del TG Noi.